Buonasera a tutti amici e bentornati al TG di AC Milan Inside. Domani ore 18.45 Milan Club Brugge per i rossoneri, un solo obiettivo, quello di vincere. Come già annunciato ieri, tra i titolari vediamo ritornare finalmente sia Gabbia e Teo Hernandez, ma non dimentichiamoci della lista di infortunati alla quale si aggiunge anche Abram assieme a Ben Nasser, Florenzi e Calabria. Oltre ai nostri difensori rivedremo anche Leao, speriamo in un atteggiamento positivo da parte del calciatore. Vedremo partire del titolare Morata e ricordiamoci che Jovic è fuori lista. Ritornando a parlare un attimo di Serie A, da oggi è aperta la vendita libera per Milan-Napoli, che si terrà martedì 29 ottobre alle 20.45. Il Milan futuro esce sconfitto per 3-1 dal match contro il Legnago Salus, unica nota positiva e il gol di Bartesaghi. Abbiamo inoltre rivisto dopo mesi Balloture con la maglia rossonera. La sua prestazione è stata negativa vista l'espulsione rimediata. Queste sono tutte quante le notizie di oggi. Io vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social perché domani gioca il nostro Milan e noi vi saremo aggiornati per tutte le novità.